Per il novembre ho scelto con tutte le mie famiglie e ho avuto anche alcuni eventi di Red Bull in Italia con alcune scuole, una scuola di motocross. Per il novembre ho scelto con la scuola di Red Bull, un altro evento con Tony in the Star e alcune scuole con molti ragazzi. Per il novembre ho scelto con la nuova KTM per la prima volta. Per il novembre ho scelto con alcune scuole internazionali come Mantua e Valence. Per il novembre ho scelto con la nuova KTM. Per il novembre ho scelto con la nuova KTM per la prima volta per la prima volta per la prima volta per la motocross. Per il novembre ho scelto con la nuova KTM. La 350 must be something unique for you. Yeah, I think it fits on me, like perfect. I really like 250 but sometimes it was less power and then I move to 450 and that was quite strong bike for me. For my riding style then I move now to the 350 bike and it's perfect fits on me and I really like to ride on this bike. Ok c'è. Right. Radio segales. Yeah. Ciao. Let's go for sure. Happy again. Yeah. Grazie a tutti.